Molto coliente, molto caldo, anche un bravo cuoco, ma serve sempre degli acchi, la buona cucina, la saluto da lei, perché sarò fine luglio per due settimane, ci siamo a Monterosa, Ah sì, molte volte? Sì, sì. Stai su un gruppo? No, una parte sì, poi l'altro gruppo arriva, l'anno scorso ne abbiamo fatto 43 persone da salita a Panantina, tante guide, tanti clienti, però il tempo buono vi è facile. E fai anche Nepal? No, 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 soltanto le Alpi sono stato in Italia, per ora, però di tutto, di tutto, di tutto. Io anche commento, parlo... È molto bello come... Il Valle di Fassa è un po' diverso? Sì, un pochettino troppo organizzato, secondo me. Nel Valle di Boite, sotto a Panantina, la gente tra le altre parole, come... Sì, sì, sì. Che piana la gente... Sì, sì, ma la gente...